Gli agenti del commissariato di Fano diretti dal dirigente Stefano Seretti hanno indagato e denunciato cinque uomini, due italiani e tre stranieri, tutti gravitanti nel territorio fanese per i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi, atti persecutori, lesioni e violenza sessuale. Le vittime, tutte donne, si sono rivolti agli agenti del commissariato di Fano diretti dal dirigente Stefano Seretti a seguito delle continue sopraffazioni fisiche e psicologiche a cui erano sottoposte, in alcuni casi anche da diversi anni, dai loro coniugi, compagni o ex. In tale contesto il commissariato di Fano ha recentemente attivato la procedura di codice rosso sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Pesaro. Le indagini sviluppate dai poliziotti hanno evidenziato lo stato di assoluto timore vissuto dalle vittime, indotto dalle continue violenze e privazioni, da episodi di gelosia ossessiva fino a vere e proprie aggressioni fisiche, in un caso anche finalizzate a costringere la donna a subire rapporti sessuali contro la sua volontà. In alcuni casi le violenze venivano perpetrate anche in presenza dei figli minorenni della vittima ed anche direttamente con gli stessi intervenuti per cercare di difendere la propria madre. In altri le donne venivano manipolate e condotte verso uno stato psicologico di assoluta fragilità, connotato da stress, ansia e timore anche ricorrendo a pesanti minacce. Gli elementi acquisiti così hanno consentito all'autorità giudiziaria di emettere misure cautelari nei confronti degli indagati, tra cui due provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla vittima e ai minori coinvolti, due divieti di avvicinamento ed in particolare per quanto riguarda l'autore degli atti persecutori e violenze sessuali di una custodia cautelare in carcere. In un caso inoltre l'indagato, inottemperante alla misura di divieto di avvicinamento alla vittima, è stato messo agli arresti domiciliari. In questa, come in altre occasioni, è stato però determinante il coraggio dimostrato dalle vittime nel presentare denuncia alle autorità, nonostante le difficoltà dovute alle minacce e all'isolamento nel quale versavano e che gli ha consentito così di tornare a condurre un'esistenza per quanto possibile normale.